Chi si lamenta, videosau? Ma che ne sai quello che guadagno io? E il conto in tasca Videosau, non è che tocca a stafà, sempre il Jerry Scottismo a mille, eh? Tette relax e basta A chi non gli sta bene esce Lo vedi che sei gay, videosau? Te l'ho sempre detto che sei frocio, te Perché ieri non l'hai fatto diretta? Perché due non fa tre? Certo, ti lascio il mio numero, come no? Tu sei sempre attratto dai maschi, videosau Sei un gay peperso A te ti si congela il pisello col gelato, che è peggio Videosau è un esempio per voi, eh? Per quanto riguarda la diffusione del culto Non me ne frega niente il tuo ragazzo, videosau A parte che tu sei un troll e io ti ho sgamato Sbagli, videosau Buonanotte, videosau Ehi, arrivano i soldi Quanti soldi pensi che mi arrivano? Sto coricato sul divano e mi arrivano i soldi Chissò, paperon de paperoni Io sono omosessuale, Sergei Mi piace toccare i maschi L'avevamo capito, videosau Però devi toccare i maschi consensienti Certo, vengo nel tuo albergo a Rimini Tu arrivi tardi Videosau spai ragazzate a balanga Come al solito E certo, nel tuo ufficio Così facciamo una scenetta di un film porno Con la segretaria, l'ufficio Anzi, quale segretaria? Col segretario ho visto le tue tendenze Videosau entertainment Grazie a tutti